Ciao a tutti e a tutte, oggi volevo consigliarvi alcune serie tv sapete che di solito vi propongo tre serie tv perché se no mi ritrovo a parlare veramente troppo e quindi direi che bando alle ciance, veniamo alle tre serie tv di cui vi parlerò oggi la prima serie tv che vi voglio consigliare è Luther Luther all'italiana, penso sia tipo Luther ma lo dirò all'italiana una serie tv iniziata nel 2010 teoricamente è ancora in corso, io ho visto le prime quattro stagioni tra l'altro dovrebbe essere uscita da poco la quinta stagione ma su Netflix non è ancora uscita questa serie tv mi ha appassionato fin dalla prima puntata e la cosa non è molto scontata perché di solito, lo sapete insomma anche voi la prima puntata di una serie tv molto spesso non è mai a livello delle altre puntate delle puntate successive in questo caso fin da subito sono rimasta colpita Luther è un poliziotto molto intelligente, brillante che riesce a capire molto bene la mente dei criminali è una sorta di Sherlock Holmes proprio il Sherlock della serie tv che conosciamo ma meno eccentrico, più normale il cui unico problema è il cui unico, diciamo che il problema più serio di Luther è l'aggressività Luther infatti tende a perdere la pazienza comunque mai così a caso c'è sempre un motivo dietro a questa perdita di pazienza che lo porta a diventare appunto aggressivo quindi sostanzialmente a spaccare cose computer, muri, finestre Luther è interpretato da un idris elba fenomenale che tra l'altro nel 2012 ha vinto un Golden Globe per interpretazione di Luther e la cosa non mi ha fatto stupito anzi in realtà sono stata stupita del fatto che abbia vinto solamente un Golden Globe per questa interpretazione perché è veramente fantastico quello che più mi piace di lui della sua interpretazione è che con la mimica facciale con la postura con i comportamenti non verbali lui riesce a trasmettere tutte le emozioni che si scatenano nella mente di Luther ed è una cosa veramente ragazzi pazzesca Luther è caratterizzato da molta forza d'animo molta tenacia e vuole a tutti i costi portare a termine i casi anche quelli più impossibili praticamente non pensate che tutti i casi finiscano sempre bene assolutamente no e anche questo mi piace di questa serie tv perché questa cosa la rende una serie molto più realistica perché nella realtà non è che insomma tutto sempre finisce bene sul campo vedremo il suo pragmatismo poi vedremo il suo dolore lancinante nel momento in cui perde una persona che amava particolarmente e allo stesso tempo poi vedremo la sua lucidità nel momento in cui deve trarsi in salvo da situazioni pericolose o nel momento in cui deve vendicarsi anche l'ambientazione si adatta molto bene alla storia è fatta molto bene considerate che Luther è ambientato a Londra quindi noi sappiamo che Londra è molto uggiosa e grigia ed effettivamente questa è la Londra che appare nella serie tv e anche di per sé tutte le scene sono molto tetre e molto cupe e tra l'altro proprio perché è ambientato a Londra io vi consiglio la visione di questo telefilm in inglese perché se volete approcciarvi appunto a qualche serie tv il migliore approccio è sempre iniziare dalle serie tv ambientate a Londra perché è un inglese doc e quindi molto più semplice molto più facile da capire poi un'altra particolarità di questa serie tv è l'utilizzo praticamente smodato dei primi piani soprattutto in realtà nella prima stagione e mi è dispiaciuto che questa cosa si sia un po' persa nelle stagioni successive ci sono dei primi piani cioè è in realtà proprio una modalità che io non ho praticamente mai visto puntare molto sui primi piani ma sono quasi dei fermo immagini ad un certo punto ti sembra praticamente di guardare delle fotografie non una serie tv ma sono veramente fatti bene e poi altra cosa che io adoro è la psicologia psicologia presente proprio fin dalla prima puntata quindi se amate i polizieschi la psicologia e soprattutto la sociopatia e anche azione sicuramente l'Uter è una serie tv che non vi potete perdere seconda serie tv che vi consiglio è purtroppo una serie tv che io non sento nominare mai da nessuna parte e non capisco il perché sto parlando di Menant una bomber una bomber è lo pseudonimo utilizzato per indicare Ted Kaczynski che è appunto un uomo dal cui di molto superiore alla media mi pare 160 che ad un certo punto ha cominciato a spedire pacchi e lettere anzi ha cominciato a spedire bombe sotto forma di pacchi e lettere a delle persone che lui considerava come una minaccia come i rappresentanti della tecnologia che va a distruggere la natura di secondo Ted l'uomo è completamente soggiogato dalla tecnologia mentre dovrebbe tornare ad uno stadio precedente quasi animalesco a stretto contatto con la natura la narrazione di questa serie tv si alterna tra presente e passato il passato è ambientato nel 1995 quando l'agente dell'FBI Fitzgerald ha ottenuto la qualifica di profiler e quindi è chiamato a lavorare assieme ad una task force incaricata appunto di scoprire l'identità della persona che ci c'era dietro lo pseudonimo di una bomber e di catturarlo ovviamente il presente invece è ambientato nel 1997 quando Fitzgerald viene richiamato dai suoi superiori per convincere Ted a dichiararsi colpevole e rinunciare al processo questa serie tv ha molto in comune con un'altra serie di cui vi ho già parlato di cui sempre sento parlare pochissimo o quasi mai e non capisco il perché sto parlando di Mindhunter sono molto simili proprio per le dinamiche per come si svolge la storia ma anche perché entrambe sono basate su fatti realmente accaduti e in questo caso specifico si cercherà di scoprire l'identità e catturare un criminale utilizzando una disciplina fino ad allora mai utilizzata quindi non è mai stata data importanza e comunque stiamo parlando di 1995 cioè non secoli fa e sto parlando della linguistica forense quindi Mindhunt è sia un thriller sia un poliziesco quello che più mi ha colpito sono state cioè tra le tante cose che mi hanno colpito ci sono anche le idee le affermazioni di Ted che mi hanno portato a riflettere su quello che lui credeva su quello che lui affermava nella serie tv le idee di Ted vengono praticamente sempre presentate come le idee di un pazzo questo perché lui ha utilizzato dei metodi assolutamente sbagliati violenti per appunto parlare di queste sue idee per cercare di raggiungere il pubblico con queste sue idee però se avesse utilizzato tutt'altri metodi non sarebbero state delle idee sbagliate cioè quello che lui dice ha un senso altra cosa che mi è piaciuto molto è stata l'umanità di Ted perché sì è facile considerarlo un mostro per quello che ha fatto però la serie tv e qua devo fare i miei complimenti ha mostrato anche il lato umano di Ted Ted infatti è un uomo sofferente è un uomo che ha sofferto fin da quando era bambino quindi sia nell'infanzia sia nell'adolescenza non solo è stato punito con metodi poco ortodossi ma è stato anche umiliato quindi lui poteva essere semplicemente un genio incompreso invece è diventato un genio violento incompreso sicuramente ma con comportamenti etero e autodistruttivi per quanto mi riguarda un applauso poi va proprio anche ai protagonisti principali di Menant quindi Ted Kaczynski e l'agente dell'FBI Fitzgerald ma soprattutto io mi sono innamorata della performance recitativa di Paul Bettany che appunto interpretava Ted Kaczynski perché è riuscito a fare grandi cose con questa interpretazione lui infatti è riuscito a rendere molto bene a trasmettere molto bene le sofferenze di questa persona in particolare la sesta puntata non ho specificato che è solo una stagione questa serie tv la sesta puntata è quella che mi è piaciuta di più in assoluto perché è totalmente incentrata su Ted e sulla sua vita passata quindi si riesce a capire quanto ha sofferto quanto ha dovuto subire e questo non solo comunque è stata una puntata che ha aiutato lo spettatore a comprendere le sue idee le sue convinzioni ma proprio è riuscita a far sì che lo spettatore empatizzasse con lui quindi non si condividono le sue idee non si condividono i suoi comportamenti non si condividono i suoi modi però si piange con lui e per lui da quanto si empatizza con questo personaggio quindi assolutamente una serie tv che vi consiglio terza e ultima serie tv qua si spegneranno gli schermi perché è una serie tv che praticamente tutto il mondo ha visto sicuramente il 99% della popolazione femminile ha visto questa serie tv e io l'ho recuperata solo da pochi mesi e sì sto parlando di Downton Abbey serie tv che è composta da sei stagioni e tra l'altro quest'anno non mi ricordo se sia dicembre uscirà il film il film la prima stagione di Downton Abbey è avventata nel 1912 in Inghilterra quindi siamo in un'epoca non distantissima dei giorni nostri distante ma non distantissima e sicuramente un'epoca diversa per usi e costumi questo tuffo nel passato al di là del fatto che mi è piaciuto molto ma sono proprio aspetti che a me piacciono tanto ma è sembrato molto realistico per le scenografie e i costumi utilizzati che poi rendevano molto bene anche le differenze tra le classi sociali tra i padroni e la servitù c'è da dire comunque che questi padroni di Downton Abbey sono sempre stati molto gentili con la servitù quindi alla fine lavorare per loro era anche piacevole quello che più mi ha colpito in questa prima stagione sono anche gli stereotipi pregiudizi che davo per scontato essere presenti nella classe sociale più ambiente e in realtà sì Nonna Violet magari ha un po' di pregiudizi e di stereotipi però sono soprattutto le persone appartenenti al mondo della servitù che presentano pregiudizi e stereotipi e non il conte e la contessa di Downton Abbey questo mi ha stupito la seconda stagione si apre invece con l'arrivo della prima guerra mondiale quindi con anche Downton è colpita dalla guerra in particolare la dimora di Downton Abbey si ritroverà ad aprire le porte e a trasformarsi momentaneamente in un ospedale in questa seconda stagione secondo me sono stati utilizzati degli stratagemmi poco realistici per far sì che in particolare due personaggi potessero essere felici assieme e la cosa mi ha un po' infastidito anche se alla fine ho sorvolato perché io aspettavo l'happy ending tra queste due persone e non vi dirò chi per non farvi spoiler perché se c'è ancora una persona che non ha visto Downton Abbey non voglio fare spoiler a questa persona fatto sta che io comunque aspettavo l'happy ending tra queste due persone fin dall'inizio fino a quando si sono conosciute e quindi chi se ne frega se ci sono stati degli stratagemmi poco realistici a me va benissimo così terza stagione siamo nel 1920 quindi la prima guerra mondiale è terminata però la fine di questa guerra ha portato con sé dei cambiamenti soprattutto nella società nel modo di vivere degli inglesi più abbienti e quindi questi cambiamenti si sentono anche a Downton Abbey e in particolare si comincia ad avere un po' di paura perché Lord Grantham ha fatto un investimento sbagliato riducendo in fumo la oh mio dio mi viene a dire tutti i soldi ma c'è una parola cacchio la dote la dote ha fatto sì che insomma la dote di sua moglie Cora andasse in fumo quindi all'inizio di questa terza stagione c'è paura che Downton Abbey si ritrovi in povertà dopodiché questa paura viene messa da parte per la morte di due personaggi che non vi so a dire chi sono la cosa mi ha molto molto sconvolta però devo dire che nel momento in cui due attori decidono di abbandonare una serie tv c'è poco da fare c'è qualcosa bisogna pure inventarselo e il modo più semplice per inventarsi qualcosa è ammazzare e giustamente devo dire che quando ho scoperto che ci sono state queste morti perché due attori volevano abbandonare la serie tv il mio dolore si è trasformato in una rabbia che non potete nemmeno immaginare e quindi il mio pensiero è stato beh ti hanno fatto morire troppo bene dovevi soffrire ancora di più quindi è stato più facile accettare le morti di queste due persone nel momento in cui ho saputo ho scoperto il perché sono morte la quarta stagione si riapre nel 1922 quando la persona X sta soffrendo per la morte di uno dei due appunto personaggi da sei mesi e qui si ritrova praticamente da sei mesi a vagare senza meta come un fantasma all'interno delle mura di Downton anche in questa stagione i colpi di scena non mancano infatti sembra impossibile ma Downton Abbey è in realtà una stagione che si basa abbastanza sui colpi di scena sulle cose inaspettate e in particolare in questa stagione si darà un po' più di importanza ai piani bassi in particolare sarà la gentile e carina Anna che sarà vittima di qualcosa di particolarmente brutto poi non ve l'ho detto finora ma Downton Abbey tra i piani alti la famiglia che abita Downton Abbey mettiamola così è composta da appunto Lord Grantham la moglie Cora e poi tre figlie Mary Edith e Sibyl Edith è sempre rimasta ai margini poi la sfigatella quella più bruttina che nessuno si considera quella che litiga sempre con Mary eccetera finalmente in questa stagione nella quarta stagione stavo dicendo Edith comincerà un po' ad emergere le verrà data più importanza comincerà quindi ad emergere una sua storia un suo percorso all'interno della serie tv e si capisce che siamo ancora comunque solo agli inizi di questo suo percorso però la cosa promette bene in questa quarta stagione ed era finalmente ora che anche sta povera disgraziata avesse una parte di rilievo secondo me la quinta stagione quindi siamo alla penultima stagione ambientata nel 1924 e ancora di più si sentono i cambiamenti della società anche se Lord Grant a me la sua famiglia resiste è attaccata con tutte le unghie a questo modo di vivere quindi continuano le battute di caccia continuano i party nella sala da pranzo prima poi nella biblioteca nel salottino poi questa quinta stagione mi ha messo un po' di ansia perché percepivo tutto questo come se Julian Fellows ci stesse dicendo ragazzi guardate che questa è la penultima stagione le cose stanno per finire quindi mettetevi l'animo in pace preparatevi psicologicamente per la fine che sta arrivando io non ero minimamente pronta per la fine arriviamo alla sesta e ultima stagione ambientata nel 1925 e qua vi devo dire una cosa l'ultima stagione mi ha un po' delusa eh sì nel senso che secondo me Julian Fellows si è ritrovato a dover chiudere tutte le storyline con un tot di puntate e quindi cosa è successo basta colpi di scena comprensibile la cosa perché se bisogna chiudere tutto ed è come se avesse cercato di far vivere tutti quanti felici e contenti però senza il giusto sviluppo per quanto riguarda eventi e personaggi e non lo so mi è sembrato tutto molto frettoloso tutto dai dai chiudiamo chiudiamo facciamo tutti felici e via a posto così e la cosa mi ha particolarmente delusa anche l'ultima puntatora il gran finale lo speciale di natale sinceramente non mi ha trasmesso assolutamente nulla cioè nella sesta stagione la maggior parte delle volte mi trovavo praticamente apatica così a fissare lo schermo senza provare nessun tipo di emozione ed è un peccato perché le prime quinte stagioni cinque stagioni mi sono piaciute un sacco la sesta stagione è stata un po' deludente e mi è dispiaciuta insomma per questa cosa per questo finale un po' così comunque in linea di massima a Downton Abbey mi è piaciuto veramente veramente tanto io mi sono ritrovata con gli occhi a cuoricino fin dalla prima puntata praticamente ci si innamora delle abitudini dell'epoca dei costumi dell'epoca cioè oddio i costumi ogni tanto mi facevano un po' però nel senso era bello vedere i costumi che si utilizzavano una volta e ci si innamora degli interni e degli esterni di Downton Abbey sono cioè qualcosa di bellissimo ci si affeziona alla fine un po' a tutti i personaggi anche ai più odiosi credetemi che poi vi affezionate pure a loro secondo me con Downton Abbey non secondo me ma parlo per la mia esperienza con Downton Abbey si ride e si piange ma si piange soprattutto cioè un po' una serie tv da mai una gioia devo dire un dramma storico che comunque ha cioè non è così superficiale come può sembrare secondo me è un po' profondo lo è poi ragazzi vogliamo parlare di Nonna Violet interpretata da Maggie Smith stupenda stupenda senza le sue battutine al vetriolo secondo me Downton Abbey sarebbe stata bella alla metà di quello che effettivamente è stato è una serie tv che veramente mi ha tenuto sempre incollata allo schermo anche nelle puntate un po' così perché sì ci sono delle puntate un po' me ma sono sempre riuscite a tenermi incollata veramente allo schermo avrei fatto anche binge watching se avessi avuto il tempo di poterlo fare quindi è assolutamente una serie tv che vi consiglio l'unico aspetto positivo è che vi potrete ritrovare a piangere come dei pazzi e ad un certo punto vi dico che desiderate ardentemente tornare nel passato ed essere e far parte della famiglia dei Crowley sicuramente bene ragazzi queste erano quindi le tre serie tv che vi ho consigliato oggi fatemi sapere se le avete viste se le conoscete cosa ne pensate se non le conoscete se vi ho incuriosito insomma come sempre parliamo qui sotto nei commenti basta qua sotto poi vi ricordo che trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di youtube quindi blog pagina facebook gruppo facebook twitter instagram voldizio canale telegram per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale e a questo punto direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video ciao ciao